Questa assemblea ne vogliamo fare perché in eccitabile, perché è un'assemblea pubblica. Assemblea! 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 che le due parti avanzano, gli studenti stanno avanzando, altre bottiglie, sì. Il finale di persone tutto attorno, loro sono arrivati fino in via Zamboni entrando e infilandosi tra gli studenti, c'è almeno un poliziotto che sta zotticando, fa fatica a camminare. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!